Buon pomeriggio, grazie di essere venuti. Questo è il terzo di una serie di appuntamenti che hanno a che vedere con il progetto Streler 100 e con il ciclo di incontri Streler Città Aperta. Il primo incontro a cura di René Piazzoni ha riguardato l'editoria del Dopoguerra Milano ed è un tema su cui torneremo perché la storia che vi racconto in realtà inizia proprio da lì. Il secondo con a cura di Stella Casiraghi che è qui con noi, molto interessante su Streler Lettore. Quello che cerco di raccontarvi io è un po' quello che è successo nell'editoria teatrale del Dopoguerra, proprio a partire da un'esperienza che ha visto come protagonista Paolo Grassi che poi ha avuto anche delle conseguenze su quella che poi è stata la storia del piccolo teatro e la carriera di Streler. Io cerco di arrivare fino al 2022, ci provo e vediamo come viene fuori la storia. Perché mi interessa raccontare questa vicenda? Perché quelle che hanno catturato la mia attenzione sono delle esperienze che hanno cercato di influire in un modo o nell'altro sul repertorio del teatro italiano. E questo è un tema che per me è molto interessante. Questa è una slide molto rozza per farvi capire un po' quello di cui parleremo. Quando si parla di editoria teatrale c'è dentro tantissime cose come sanno bene quelli che si occupano degli archivi di teatro come qui alla Fondazione Mondadori. C'è un sacco di materiale che sfugge alla normale classificazione delle biblioteche. Chiaramente quello su cui cerco di concentrarmi sono i testi, però dobbiamo anche ricordarci che ci sono tantissimi altri materiali che nascono intorno al teatro e che cercano di preservare in qualche modo la memoria del teatro. Quando si parla di testi poi ci sono tantissime modalità in cui i testi si possono presentare. I copioni, le note di regia che sono quelle che usano i teatranti quando devono andare in scena. Nel suo incontro che ha tenuto alla sala coppò della scuola del piccolo teatro, Stella Casiraghi ha raccontato che lì in quella biblioteca sono conservati tutti i copioni con le note di Giorgio Streller, quelli che usava per le prove. Poi ci sono tutta una serie di materiali che servono al pubblico, agli spettatori che vanno in sala. Io mi ricordo che da bambino rimasi molto colpito perché sono andato a vedere Il sogno di una notte di mezz'estate di Peter Brook, che era uno spettacolo assolutamente fantastico dal punto di vista visivo. Io ero poco più che un bambinetto, ma per dirvi c'erano altalene con gli attori acrobati che ci volavano sopra. Il signore di fianco a noi, che evidentemente non sapeva l'inglese, ha passato tutta la serata a leggersi il testo di Shakespeare. Diciamo, ma bisogna guardare là, non lì. Però, diciamo così, come vedremo, questa idea di portarsi il testo in sala non è così balzana. Dopodiché ci sono i testi che vengono poi pubblicati dalle varie case editrici. E poi però ci sono anche dei libri che cercano di raccontare gli spettacoli. Io mi concentro su quella parte lì sapendo che c'è poi tutto quello che c'è sotto. Questo è solo per farvi capire. Questo è l'Amleto di Shakespeare. Dell'Amleto noi abbiamo dal 600 diverse versioni. Ci sono questi che si chiamano inquarto, che erano, siccome gli spettacoli avevano grande successo, la gente poi voleva avere il testo. E questi venivano venduti sostanzialmente poco lontano dal teatro, o forse anche addirittura dentro in teatro. Erano delle edizioni dei testi spesso un po' zoppicanti. Questo è il primo in quarto dell'Amleto e viene definito il bad quarto, perché rispetto alle altre versioni che abbiamo dell'Amleto è quella più scrausa. Perché è quella più scrausa? Perché per mettere insieme queste cose e battere la concorrenza degli altri possibili editori, cosa facevano gli editori stampatori dell'epoca? Prendevano i copioni che avevano gli attori, dove però ogni attore aveva le sue battute, non aveva le battute di tutti quanti gli altri personaggi. Quindi un po' ce l'avevano giusto e un po' andavano a memoria e tappavano i buchi come riuscivano. E diciamo dell'Amleto ci sono diversi in quarto, alcuni migliori di altri. Quando Shakespeare muove nel 1616, quando i suoi amici decidono di pubblicare le opere di Shakespeare, perché a quel punto si accorgono che Shakespeare era un grande drammaturgo, un grande scrittore, fanno quello che viene chiamato l'infolio. Tenete presente che Shakespeare non pensava di diventare famoso per i suoi testi teatrali, che scriveva per guadagnare soldi, lui sperava di diventare famoso e di essere accolto tra gli autori dell'alta letteratura con dei poemetti che noi leggiamo molto faticosamente, tipo il ratto di Lucrezia, Venere, Adone, eccetera. Il teatro era quello che gli serviva per mangiare, per diventare anche ricco sostanzialmente. Quando decidono di pubblicare le opere di Shakespeare, mettendo insieme tutto quello che riescono a raccogliere i suoi due amici, fanno quello che si chiama l'infolio. Questo è quello che corrisponde grossomodo ai programmi di sala e questo è quello che corrisponde ai libri che andiamo a prendere in biblioteca, che pubblicano gli editori. Questo per darvi un'idea molto sommaria di come funziona questo meccanismo. Che cosa succede nel Novecento? Che i testi teatrali vengono pubblicati dalle riviste che sono tendenzialmente mensili, queste sono le due più famose, longeve riviste teatrali, che pubblicano in ogni numero, alla fine di ogni numero, un copione, un testo teatrale. E sono i testi che vanno in scena, cioè queste riviste seguono l'attività teatrale e pubblicano tendenzialmente i testi che vanno in scena. Quindi io vado a vedere, vado a teatro, sono un amante del teatro, qui mi fanno leggere, mi danno la possibilità di leggere i testi più interessanti, più accattivanti che vengono in quel momento portati in scena. Sono le riviste, formato rivista. Questa è la prima delle storie che vi racconto ed è una storia abbastanza sensazionale, perché ci sono due signori, signori Rosa e Ballo, il primo ha una seteria dalle parti di Como, quando si accorge che la seta serve per fare i paracaduti per i nazisti, chiude l'azienda, liquida l'azienda e si mette a fare l'editore chiamando un signore che si chiama Ballo, che è un musicologo, uomo colto, e aprono questa casa editrice. Gira un ragazzotto di belle speranze che si chiama Paolo Grassi, giovanissimo, famiglia di origini pugliesi, che comincia a proporgli dei testi teatrali. Qual è il problema in quel momento lì? Siamo negli anni della guerra, cominciano a lavorarci nel 1942-1943 con l'Italia bombardata, la Repubblica di Salò, i nazisti in casa, il Ministero della Cultura Popolare che fa una censura rigidissima. Qual è il problema che ha Paolo Grassi? E che hanno gli intellettuali italiani in quel momento lì? Che il fascismo ha in qualche modo censurato una quantità di autori gigantesca perché erano ebrei, arrivavano da paesi nemici, erano di comunisti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'Italia era rimasta tagliata fuori da quelle che erano le grandi correnti della cultura di quel momento lì. Ci sono delle frasi molto chiare che dicono sia Paolo Grassi che Giorgio Streller. Grassi, penso che il nostro compito, il compito di noi giovani, è attualmente quello di immagazzinare libri, notizie, dati, cognizioni, conoscenze e documenti. Quello che necessita è un lavoro oscuro, durissimo, di studio, di preparazione, di affinamento dei nostri mezzi e delle nostre qualità. Siamo orgogliosi di questo splendido isolamento. Dice, ragazzi, dobbiamo studiare, dobbiamo prepararci perché quando finirà tutta questa cosa qua dovremo ripartire e rimettere in piedi quella che è la cultura italiana. Streller dice sinteticamente, quello che ho cercato di raccontare io un po' confusamente, volevamo, sopra ogni altra cosa, colmare il ritardo che separava le scene italiane da quelle europee. Un bisogno di entrare nel secolo. Quindi è una fase di aggiornamento culturale molto accelerata ed è quella che darà poi in parte le basi al lavoro di registi come Streller per l'appunto e come Visconti che cercano di portare con i loro spettacoli questo aggiornamento anche sulle scene. Rosa e Ballo dura di fatto tre o quattro anni, anche se poi alcuni testi vengono pubblicati dopo, ma molto pochi. Cioè nel giro di tre anni, nelle due collane a Rosa e Ballo, una di teatro moderno, ovvero il teatro contemporaneo, che pubblica in tutto 47 testi, più di 40 vengono pubblicati nell'arco di tre anni tra il 43-44 e il 47, con l'Italia distrutta, e una collana di testi classici che pubblica una decina di testi per tenere in relazione la tradizione con quella che è la contemporaneità. E questo è un momento molto importante perché il repertorio del piccolo teatro dei primi anni attingerà moltissimo a questi testi. È la base del repertorio del piccolo teatro dei primi anni. Tutta questa vicenda assolutamente eroica, io non riesco a capire come potessero riuscire a fare tutto questo, perché poi il Ministero della Cultura Popolare, cioè quello che dava i visti di censura, stava a Venezia, non stava a Milano. Quindi riuscire a fare questa cosa qua è stata un'esperienza assolutamente straordinaria. Tenete presente che la casa editrice smette di pubblicare abbastanza presto nei primi anni del dopoguerra, ma Rosa e Ballo continuano a prendere diritti d'autore perché c'è un signore che era poi in contatto con loro che si chiama Enzo Guerrieri, che ha sostanzialmente gestito tutto il teatro alla radio dagli anni 30 agli anni 60. E tantissimi di questi testi, di queste traduzioni di Rosa e Ballo vengono riutilizzate da Ferrieri che nel corso della sua carriera ha allestito, portato in scena, curato tipo 600 radiodrammi, cioè una quantità assolutamente gigantesca di radiodrammi e un po' arrivavano da qui anche in anni abbastanza lontani dal 44-45 quando tutto questo viene pubblicato. Quindi diciamo che dal punto di vista del repertorio che cosa fa Rosa e Ballo? Offre gli strumenti per aggiornare il repertorio del teatro italiano con le esperienze internazionali più interessanti di quel momento. Non è l'unica delle piccole case editrici che agisce in quegli anni, ma è quella che ha forse, cioè molto probabilmente, l'azione più incisiva. Un'azione talmente incisiva che quando qualche anno dopo Einaudi parte con una collana di teatro la chiede di metterci la firma, il cappello a Paolo Grassi e Giardo Guerrieri, Paolo Grassi che lavorava con Nastreller e Guerrieri che lavorava con Visconti. Uno dei testi che pubblica Rosa e Ballo è l'opera da tre soldi che ho messo un po' di copertine dell'opera da tre soldi pubblicata da Einaudi. Della collezione di teatro ci sono due serie, una che comincia nel 1953, e nel 1962 lancia una nuova serie, la nuova serie sono queste copertine che vedete qua. Queste sono le copertine della prima serie tipiche, qui ci sono alcune storie molto interessanti, Ruzzante per esempio era un autore totalmente dimenticato che viene riscoperto grazie anche alle messe in scene di Gianfranco De Bosio e entra in qualche modo nel canone della letteratura italiana dal quale era stato sostanzialmente dimenticato ed escluso. Molto spesso nel dopoguerra sono stati i registi che hanno dato delle chiavi di lettura e delle chiavi di interpretazione innovative a testi della tradizione. Il lavoro che hanno fatto registi come Streller, come Catri, come Ronconi su Goldoni ha riaperto lo scaffale Goldoni, l'ha tirato fuori dal Settecento e ci ha fatto capire che Goldoni era molto più vicino a noi di quanto non si potesse pensare. La collana si apre anche a Beckett, Ionesco, cioè al Teatro dell'Assurdo che dal mio punto di vista non era particolarmente nelle corde di grazie e strelle. Tenete presente che però in Einaudi chi si occupava un pochino di questa collana e lavorava redazionalmente all'interno era un signore come Carlo Fruttero che queste cose qua, Beckett e compagnia cantante le conosceva molto bene, un'altra persona che lavorava in Einaudi a spalleggiare e a mandare avanti la collana era Giorgio Guazzotti che aveva lavorato al piccolo teatro e che in qualche modo portava avanti il discorso della collana. la collana è stata a lungo al centro di una discussione tra guerrieri soprattutto da una parte e Einaudi e la casa editrice dall'altra perché? Diciamo che dal punto di vista di Einaudi che era una persona e un editore assolutamente geniale la collana dal punto di vista della casa editrice doveva accompagnare le persone che andavano a teatro. Vi ho fatto vedere prima le copertine delle riviste che pubblicavano i testi. Quello che pensava sostanzialmente Einaudi era sono delle riviste grosse, ingombranti, noi gli vendiamo un libriccino di formato tascabile e accompagniamo l'attività teatrale quello che succede in teatro con i copioni degli spettacoli che la gente va a vedere. Un po' di anni dopo quando lo intervista Severino Cesari per un libro abbastanza noto che è il colloquio con Giulio Einaudi Einaudi dice è la collana che si vende di più in assoluto come numero di copie sono libri che costano pochissimo ed escono sempre tempestivi rispetto alle uscite di cartellone e dà piacere andare a teatro con in tasca quel libretto piccolo e ben stampato non ci fai caso e lo compri senza problemi e ti accompagna anche quindi l'idea di Einaudi è voi che andate a teatro vi comprate questi libriccini carini che costano poco ve li mettete in tasca e andate a teatro l'idea che aveva Guerrieri e sostanzialmente anche Grassi era che invece quella collana lì dove non doveva semplicemente limitarsi a raccontare a illustrare quello che stava succedendo in teatro ma doveva costruire davvero un repertorio nuovo doveva in qualche modo trasformare il teatro da puro intrattenimento puro consumo a fatto culturale non è un caso che la collana programmaticamente continuasse a mischiare autori contemporanei e autori e autori classici Guerrieri avrebbe voluto metterci dentro anche dell'altro che non gli facevano mettere ma tendenzialmente l'idea è questa collana dovrebbe avrebbe dovuto nell'idea di Guerrieri disegnare il repertorio del teatro italiano del futuro del teatro italiano che noi vogliamo che noi vorremmo non vi leggo tutte le lunghe citazioni ma è stata una discussione dal mio punto di vista molto interessante dopodiché questo è un altro aspetto abbastanza interessante che Grassi non si accontenta di dire pubblichiamo i copioni dice vogliamo anche provare a documentare gli spettacoli cioè il testo è una cosa ma lo spettacolo è tutt'altro e ci sono vari tentativi che fa Grassi e che fa il piccolo di andare in questa direzione qui dentro ho il pdf di quel volume l'opera da tre soldi credo che ne abbiano realizzati due in questo modo strepitosi dopo se volete alla fine dell'incontro possiamo sfogliarli perché sono qui in questo computer e se le voi non riuscite a leggere ma l'opera da tre soldi di Berto Brecht e Kurzweil regia di Giorgio Streller fotografie di Ugo Mulas perché c'è una ricca documentazione fotografica il piccolo e Grassi fanno due di questi volume con un editor di Bologna che si chiama Cappelli che aveva una collana di saggistica teatrale straordinariamente interessante dopodiché comincia a scrivere e rompere le scatole in Audi perché vuole farli lì questi libri bellissimi che raccontano gli spettacoli e in Audi evidentemente non aveva questa grande passione per il teatro e aveva un fiuto commerciale maggiore di quello di Grassi gli dice caro non se ne parla neanche gli risponde Grassi una lettera del 28 gennaio del 64 per quanto riguarda i libri sui nostri spettacoli mi spiace di non essere d'accordo con te in tutto il mondo il modo per lasciare un minimo di documento di uno spettacolo è soprattutto il fatto fotografico in una pagina ridotta come quella della collezione di teatro perché evidentemente è in odio di aver risposto a non rompere le scatole infila lì dentro i libriccini così comodi a portare in tasca in una pagina ridotta come quella della collezione di teatro la fotografia non respira e uccide la serietà e l'importanza del documento mi dispiace di non essere d'accordo e mi dispiace di passare ad altro editore la documentazione del nostro lavoro forse ci ha provato ma non è andato molto lontano questo per dirvi quale fosse l'interesse e l'attenzione di Grassi per fare un passo ulteriore io prendo il testo l'opera tre soldi lo porto in scena però poi dopo devo anche documentare lo spettacolo e per documentare lo spettacolo il testo non basta ci vuole restituire altro rispetto al testo un secondo esperimento anche questo abbastanza isolato lo fa qualche anno dopo con il campiello di Goldoni dove il testo di Goldoni è inserito in una mole di materiali per cercare di contestualizzare e per cercare di raccontare anche un po' quello che era lo spettacolo anche qui c'è una ricca documentazione fotografica chiaramente questo però è un libro tascabile un'edizione economica eccetera 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 e le foto non hanno lo splendore che hanno in quel volume lì questo non sono riuscito a portarvelo ma è un documento assolutamente straordinario è un cofanetto dove c'è anche il DVD con il video e lo spettacolo ma la cosa assolutamente straordinaria di quel documento è tutto l'epistolario tra Giorgio Streller il regista e Agostino Lombardo il traduttore della della tempesta con Streller che a partire dal suo sapere teatrale spiega scena per scena che cosa perché Shakespeare scriveva quella cosa lì cioè la sapienza teatrale di Streller insegna tantissime cose al traduttore Agostino Lombardo grandissimo traduttore ma che non ha quella competenza su come funziona il teatro ed è un documento assolutamente assolutamente straordinario poi vi ho portato questo che è il programma di uno uno degli spettacoli più strani che abbia mai fatto al piccolo teatro perché è il Faust Streller che aveva abbandonato il palcoscenico giovanissimo per fare solo il regista torna in scena come protagonista assoluto di un Faust in due serate che viene fatto al teatro studio e questo è il programma di sala il piccolo teatro ha sempre avuto una tradizione di programmi di sala ricchi pieni di materiali perché se il teatro è cultura io devo offrire al mio pubblico tutta una serie di strumenti che gli permettano di capire che cosa significa quello spettacolo poi vi ho messo sotto tre numeri di una rivista che ha curato il piccolo teatro una rivista internazionale perché quando il piccolo diventa teatro dell'Europa anche il piccolo si dota di una rivista molto bella molto lussosa molto patinata che dura per qualche anno e poi non c'è più ma qualche numero sono riuscito a portarmelo a casa altra attività che il piccolo segue ha seguito ha cercato di seguire in questi anni con grande attenzione è quella di raccontarsi quando ci sono gli anniversari decennali trentennali adesso stiamo celebrando i cent'anni di Streller ci sono tutta una serie di pubblicazioni che cercano di raccontare la storia del teatro io ve ne ho portate alcune credo che questi sono i 40 questi sono i 50 questi non so che anniversario era sono in qualche modo il tentativo di rileggere la propria storia man mano che va avanti questi sono quattro numeri che sono stati fatti poi cinque forse alla fine di una specie di rivista i quaderni del piccolo teatro anche qui ho un numero che vi posso far vedere sono formato rivista e sono diciamo così degli approfondimenti sui temi che stavano particolarmente a cuore dal punto di vista culturale al piccolo teatro l'ultimo quello che ho qua è dedicato a Marcello Moretti che è stato il primo storico Arlecchino ci sono dentro delle foto di Arlecchino assolutamente fantastiche vado avanti Sipario Sipario è una rivista che nasce nel dopoguerra ed è una rivista a differenza di quelle che vi ho fatto vedere prima chiaramente militante viene fondata nel dopoguerra esattamente nei momenti in cui stanno nascendo i teatri stabili in cui Strele e Regrassi aprono il piccolo teatro da Gian Maria Guglielmino e Ivo Chiesa Ivo Chiesa poi sarà a lungo il direttore del teatro di Genova che è un teatro pubblico straordinariamente importante nella storia del nostro paese quindi una rivista militante che però anche essa pubblica testi ogni mese Sipario aveva in fondo al numero della rivista un testo anche questo tendenzialmente di drammaturgia contemporanea molto spesso legato a quella che era la programmazione del teatro qui ci sono un po' di numeri Sipario esiste ancora se ne occupa un signore che si chiama Giorgetti quello che serve a me per passare alla pagina successiva sono questi numeri in basso perché che cosa succede la rivista nasce nel 1946 un anno dopo la compra Valentino Bompiani che era editore straordinario perché l'editore di Morave l'editore di Vittorini eccetera eccetera ma era anche un grande appassionato di teatro e anche autore improprio di testi teatrali e si compra la rivista e la tiene fino agli anni 70 negli anni 60 chiama come caporedattore un giovane appassionato di teatro che si chiama Franco Quadri e che per una decina d'anni è fabbrica Sipario qui ho messo ho preso tre numeri nel primo credo che sia dovrebbe essere quello che cosa fa Sipario fa una grande inchiesta e va a chiedere agli scrittori che cosa pensate del teatro perché non scrivete per il teatro vi interessa il teatro eccetera eccetera tra le risposte c'è quella di Moravia quella di Pasolini e quant'altri e quello che emerge è sostanzialmente una grande straneità degli scrittori italiani degli intellettuali italiani rispetto al teatro e alla scrittura per il teatro cioè c'è una distanza molto grande tra il mondo del diciamo in cui vivevano queste persone qua e quello che stava succedendo in teatro e quello che succedeva in teatro tutto questo apro una piccola parentesi che per me è abbastanza interessante tra le persone che vengono intervistate c'è Pierpaolo Pasolini qui siamo intorno alla metà degli anni degli anni 60 sono gli anni in cui in parallelo però succede una rivoluzione teatrale questo numero in mezzo credo che sia è un numero dedicato al teatro polacco curato da un signore anche se non aveva firmato che si chiama Eugenio Barba dove si parla di una strana cosa che succede lì ed è un signore che si chiama Grottoschi eccetera 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 che sta inventando il teatro diciamo del ventunesimo secolo quasi e Pasolini si accorge di questa cosa qua si accorge che il teatro sta cambiando che ci sono tantissimi giovani che vanno a vedere il Living Theater che vanno a vedere Carmelo Bene eccetera eccetera chiama Julian Beck a recitare nei suoi film chiama Carmelo Bene a recitare nei suoi film quando a un certo punto gli arriva un'ulcera nel 68 69 deve stare sei mesi chiusa a casa scrive sei tragedie le sei tragedie di Pasolini sono anche in reazione in risposta a tutto quello che lui vede accadere in quel momento lì e che non gli piace per niente e da artista da poeta reagisce in qualche modo scrivendo il suo teatro scrivendo le sue le sue tragedie ne porta in scena una durante la sua vita che è Orgia con Laura Betti a Torino poi con tutte le con un rigore diciamo così puritano nella messa in scena lo spettacolo è un disastro e da lì in poi prima di riuscire a far a riportare in scena decentemente il teatro di Pasolini ci vorrà un bel po' un bel po' di tempo questo per dire però che quando si parla di repertorio c'è un momento in cui gli scrittori italiani preferiscono tendentemente non misurarsi con il teatro ci sono dei testi teatrali a volte anche interessanti ma che all'epoca non riuscivano a incidere con quella che era diciamo il mainstream del teatro italiano né quello ufficiale del San Babila nuovo eccetera eccetera né il piccolo teatro men che meno quello del teatro d'avanguardia e di ricerca questo è il numero di sipario dedicato al teatro americano che è quello che in quel momento lì sta cambiando il teatro tenendo presente che uno dei primi cambiamenti primo segno forte di cambiamento è dire non è il testo che il testo non è più così importante possiamo fare a meno del testo il teatro è anche altre cose non è soltanto parola è lo spazio sono i corpi è la musica tutto quello che volete voi quindi nasce tutto un teatro che tendenzialmente del testo fa a meno e chi racconta meglio di tutti questo cambiamento insieme a Giuseppe Bartolucci è Franco Quadri nei pezzi che fa per panorama nei libri che scrive eccetera eccetera dopo di che Franco Quadri che all'epoca era il critico teatrale di panorama apre una casa editrice che si chiama Ubu Libri dove ho lavorato per una decina d'anni che è una casa editrice che si occupa di spettacolo di cinema e di teatro all'epoca non c'erano case editrici specializzate in questo settore c'era un buco Franco Quadri inventa il patologo che è un grande annuario dove c'è tutto quello che bisogna sapere di quello che succede nella stagione teatrale io vi ho portato un numero che è il numero 9 perché dentro questo numero c'è un'inchiesta sull'editoria teatrale sulle riviste teatrali a cura di Gianandrea Piccioli che racconta un po' quella che era la situazione dell'editoria teatrale in quel momento lui dice Piccioli sintetizzo molto rapidamente negli anni 60 c'erano tante case editrici che si sono accorte che stava succedendo qualcosa nel mondo del teatro case editrici piccole poi dopo è tutto finito ed è uno scenario abbastanza disperso in cui esisteva a quel punto la Ubu Libri la collana dell'Inaudi era in una fase di stanca anche perché il teatro sembrava andare da un'altra parte c'era un'altra case editrice che si occupava di spettacolo che si chiama Costa e Nolan ed erano case editrici che nascevano in un momento abbastanza particolare perché è il momento in cui i grandi editori vanno in crisi e una serie di piccoli editori cominciano a emergere sono gli anni in cui emergono Sellerio emerge e o emerge iperborea cioè case editrici che iniziano specializzandosi o in un'area geografica iperborea al nord e o la letteratura della mitte dell'Europa eccetera eccetera o su settori specialistici come per l'appunto il teatro Franco Quadri tendenzialmente all'epoca era considerato un paladino del teatro immagine di un teatro che non usava le parole eccetera eccetera se non che a un certo punto decide di aprire una case editrice apre il patologo e dopo qualche anno apre una collana una collana di testi sono anni in cui Franco prende in qualche modo la direzione della cura del premio Riccione che è il più importante era il più importante premio per la drammaturgia italiana che ha un momento che aveva una fase di stanca anche lì e comincia a rilanciarlo e in parallelo inizia a pubblicare una collana di testi il primo testo che pubblica è questo sono tre testi di Thomas Bernard che era appena stato pubblicato credo per turbamento da Adelphi vedete subito dal volume che sono libri diversi da quelli dell'Ein Audio ma anche da quelli di Rose Ballo perché quella che fa quadri in questa collana è soprattutto una politica di autori cioè non piglia un testo di Thomas Bernard ne mette insieme tre e lo stesso farà con tantissimi altri autori cioè il punto non è imporre solo un testo ma imporre un autore e questo è una delle caratteristiche di tanti dei volumi di Franco questo è il teatro di Coppì che era uno straordinario drammaturgo e fumettista che disegnava un fumetto strepitoso che si chiamava La Donna Seduta e nel volume ultimo che ha curato Franco c'erano undici testi di Coppì in un unico volume anche Leinaudi un pochino faceva così perché diciamo quando si trattava di nobilitare un autore non si fidavano dei libriccini carucci da mettere in tasca e cominciavano a pubblicare gli omnibus con tre quattro testi teatrali degli autori che ritenevano più importanti più vendibili quello che fa Franco sistematicamente invece è proprio una politica degli autori partire dagli autori prima ancora prima ancora che dai testi altri testi li pubblica in questa collana piccolina che si chiamava La Collanina con questa caratteristica velina intorno al come sovracoperta tenete presente che la grafica di queste copertine era curata da Pierluigi Cerri che è uno dei grafici designer più importanti d'Italia degli ultimi decenni quindi una politica degli autori anche qui si tratta di costruire un repertorio nel senso che Franco Quadri porta in Italia la drammaturgia di Bernard la drammaturgia di Coltess la drammaturgia di Einar Müller eccetera 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 c'è tanti autori stranieri ma anche tantissimi autori italiani il primo quel signore che vedete lì Enzo Moscato è uno straordinario attore drammaturgo napoletano che vince il premio Riccione e poi inizia la sua carriera e questo è una delle raccolte dei testi di Enzo Moscato pubblicate da Franco anche qui c'è un'idea di repertorio un repertorio contemporaneo che porta tanti autori a essere conosciuti in Italia tantissimi dei testi che ha portato in scena al teatro e l'elfo negli ultimi anni a cominciare da Angels in America sono andati pubblicati da Franco lo stesso Luca Ronconi l'ha detto esplicitamente considerava Franco Quadri il suo dramaturgo per certi aspetti cioè quello che gli dava le dritte sui testi che lui avrebbe dovuto potuto mettere in scena due casi uno è Arno Holtz che è un testo molto molto strano ignorabimus scritto all'inizio del Novecento da questo signore Arno Holtz che è diventato un testo sostanzialmente irrappresentabile che è diventato uno degli spettacoli memorabili che ha fatto Luca Ronconi un allestimento che durava nove ore con cinque protagonisti di cui quattro uomini tutti e cinque interpretati da donne un'esperienza direi che portava oltre la percezione del reale degli spettatori me compreso ma anche Raphael Spregelburt che è un drammaturgo argentino che Franco inizia a far conoscere e che poi Ronconi porta in scena in più di un'occasione quando Franco muore diciamo la casa editrice non è floridissima però Einaudi decide di riprendere esattamente la politica degli autori che aveva fatto Franco e comincia a ripubblicare alcuni degli autori per esempio Bernard e Spregelburt per dirne solo un paio quindi diciamo così che quelle che abbiamo attraversato fino adesso sono tre idee abbastanza diverse di repertorio quella di Roseballo quella di Einaudi e quella di Ubu Libri ma tutte e tre diciamo molto forti e molto precise adesso vado verso la fine perché io non so quanto tempo ho parlato ma forse comincia a diventare troppo lungo questa è Istrio che è una rivista che è nata nel 1988 e anche lei ha ogni numero pubblica un testo e segue in qualche modo quella che è l'attualità teatrale come le riviste che vi ho fatto vedere all'inizio ovviamente anche qui c'è un taglio preciso perché la sensibilità per il nuovo teatro è ovviamente maggiore della media questa è un'altra storia abbastanza per me interessante da tantissimi punti di vista questo signore immagino che lo conosciate tutti Marco Paolini io l'avevo conosciuto perché era uno degli attori di Gabriele Vacis del teatro laboratorio settimo a un certo punto comincia a fare quelli che poi sono diventati gli album che era sostanzialmente le storie di un bambino poi adolescente che cresce e che ha grosso modo l'età di Marco a un certo punto incontra Tina Merlin che è la giornalista che aveva raccontato la storia del Vaillant e si appassiona a questa vicenda e comincia a raccontare la storia del Vaillant ma non nei teatri la racconta fuori dai teatri la racconta nei centri sociali racconta nelle scuole la racconta dove gli capita e pian pianino costruisce questo spettacolo io ero amico di Marco e lavoravo in Garzante e gli ho proposto di pubblicare il testo del Vaillant il testo dello spettacolo e quando siamo andati a proporlo ai venditori questi ci hanno guardato una roba di teatro che parla di una roba di 30 anni fa 40 anni fa che nessuno si ricorda più 3000 copie no fatene un po' di più vabbè alziamo un po' qualche settimana dopo il Vaillant di Marco Paolini va in prima serata su Rai 2 e fa uno share altissimo con un'avvertenza che se voi guardate i giornali di quel giorno nessuno ha scritto teatro hanno tutti scritto documentario film o non hanno scritto niente perché mette teatro che è la stessa reazione che hanno avuto i venditori dei ragazzanti teatro chi se ne frega ne abbiamo vendute credo 100.000 copie di quel libro nei mesi successivi e questo poi dopo invece è la l'edizione questo credo che sia col DVD esce poco dopo l'edizione con la cassetta dello spettacolo anche lì ha venduto tantissime copie questo per dirvi che tendenzialmente se uno pensa a editoria teatrale pensa a una roba che vende pochissimo che nessuno si fila che nessuno vuole di cui nessuno se ne vuole occupare poi in realtà ci sono delle occasioni in cui il teatro finisce nella classifica dei best seller è capitato con i monologhi di Paolo Rossi per esempio prima che con Paolini cioè sono testi teatrali anche se poi la gente li compra come se fossero dei libri normali in realtà quello sono così nascono quindi questo era per dire che ci sono anche delle modalità di approcciarsi al teatro che sono a volte imprevedibili finisco rapidamente con quello che sta succedendo adesso allora vi do qualche numero vi ho già detto che Rosa e Balla aveva pubblicato nel giro di 3-4 anni 47 titoli nella collana del teatro moderno più una decina nell'altra collana la collezione di teatro in Audi a partire dal 1962 credo quando è partita la seconda serie ha pubblicato più di 450 titoli fino a oggi tra alti e bassi negli ultimi anni ha pubblicato tantissimi autori italiani si è andato a vedere e li vende tendenzialmente un altro autore che ha venduto e sta vendendo molto anche questi testi teatrali è un signore che si chiama Stefano Massini e che anche quadri aveva pubblicato quando era un giovane pieno di belle speranze la UB Libri nella collana dei testi ha pubblicato una settantina di volumi circa tenendo presente che però tanti di questi volumi hanno dentro 3, 4, 5 testi per uno più quelli pubblicati in altre collane una era la collanina altri sono dei testi che sono pubblicati in collane che al testo aggiungevano altri materiali questo è un testo di Jack Gelberg che si chiama La Connection che aveva messo in scena il Living Theatre negli anni 60 è uno spettacolo che aveva avuto grandissimo successo aveva fatto molta impressione perché racconta la storia di una comunità di tossicomani e sembravano dei veri tossici e la gente rimaneva abbastanza sconvolta e a un certo punto Leo De Berardinis che è uno dei grandi maestri del teatro italiano decide di portarlo in scena e quindi Franco Quadri e Lobo Libri ripubblicano il testo di Jack Gelberg con una serie di materiali che riguardano anche Leo De Berardinis e quello che stava facendo in quell'epoca quindi diciamo che oltre ai testi della collana questa qua diciamo grigina con i grandi drammaturghi contemporanei ci sono anche altre cose che succedono in Umbu Libri Titi Villus è una casa editrice indipendente che nasce da una piccola compagnia teatrale che si chiama Teatrino dei Fondi e che ha pubblicato in questa collana lo spirito del teatro a partire dal credo 94 un centinaio di titoli quindi anche qui c'è tanto tanto materiale con tanti testi sia italiani sia stranieri questo è un testo di Ricci Forte che sono gli attuali direttori della Biennale Teatro questo è Daniele Timpano Stefano Massini Riccardo Goretti che era una compagnia toscana che si chiamava Gli Omini questo è il recupero di un testo di Artur ma anche degli autori stranieri John Fosse e Vajid Moua Vincendi che è un testo assolutamente straordinario che ha messo in scena anche credo una decina di anni fa forse anche di più il teatro diciamo che qui siamo più o meno su questi erano tendenzialmente spettacoli già andati in scena e questa collana in qualche modo dà traccia di quello che è successo mentre nel caso degli stranieri a volte anticipa offre la possibilità ai registi e alle compagnie di andare a scegliersi gli spettacoli tenete presente che prima di questi ultimi anni era molto difficile per i registi entrare in contatto con i testi stranieri c'erano 3, 4, 5 agenti che avevano i testi magari nelle lingue originali se un regista non sapeva l'italiano doveva farselo tradurre oppure la gente li faceva tradurre era abbastanza complicato e macchinoso con alcune eccezioni per esempio un attore come Umberto Orsini andava e va regolarmente a Londra a vedere i testi che funzionano lì per vedere quelli che possono essere adattati in Italia adesso c'è una delle più importanti agenzie teatrali italiane che ha aperto una collana per esempio di recente si chiama Arcadi Ricono ha pubblicato i testi di Coltes che ha pubblicato anche Lubribi in una nuova traduzione quindi diciamo così questo è un aspetto interessante di quello che sta accadendo nell'editoria italiana in questi ultimi anni c'è la nascita di tante case editrici che sono in qualche modo collegate ad altre esperienze in questo caso un'agenzia teatrale a volte può essere una rivista a volte può essere un centro culturale eccetera eccetera che è un'agenzia teatrale che è un'agenzia teatrale ha aperto a Imola questa case editrice che si chiama Q Press Q è in inglese il suggerimento quello che dà il suggeritore l'imbeccata che dà il suggeritore e anche qui c'è una ampia scelta sia di testi italiani io ne ho scelti tre uno è Gramsciaturi Antonio Tarantino che è un autore che aveva scoperto Franco Quadri del premio Riccioni Nubu Libri un altro è Timpano che ha piazzato i suoi testi in tutti gli editori possibili e immaginabili in Italia e l'altro è Animali da Bar che è di Gabriele Di Luca che è uno dei grandi successi del teatro di questi anni ci sono anche dei testi dei testi stranieri che ho messo il testo di Sergio Blanco che è andato in scena poche credo che sia ancora in scena adesso al teatro studio un'impresa abbastanza gigantesca è quella che ha fatto Q Press in collaborazione con Fausto Marcovati e sono i due volumi del teatro di Ostrovski che è considerato il goldoni russo ma dai russi noi non sappiamo neanche che esista o quasi perché qualcosa di Ostrovski era stata pubblicata in questa collana che qualcuno di voi riconoscerà che è la mitica burgrigina che aveva creato rusca negli anni 50 qui non posso non citare l'aneddoto famoso che a un certo punto questi signori vanno e dicono a Angelo Rizzoli guardi dobbiamo fare una collana popolare di cultura per dare a tutti gli italiani la possibilità di entrare in contatto con i grandi capolavori della letteratura l'omologo del teatro d'arte per tutti di Grassi Streve esce la collana dopo un po' Rizzoli li chiama e gli dice ragazzi ma voi mi avete fregato e questi lo guardano e dice sì mi avete detto che facevate cultura ma io ci sto guadagnando un sacco di soldi con questi libricini e quindi auguro lo stesso a a a Mattia con il teatro di Ostrovski credo che l'obiettivo sia anche quello di dire ragazzi teatranti sappiate che esiste questa cosa qua e che forse qualcuno qualcuno di voi potrebbe anche metterlo in cena farsi venire l'idea di allestire i testi di Ostrovski altro progetto che è in corso in questi anni Emilia Romagna Teatro sta lavorando molto sulla drammaturgia contemporanea e ha messo in piedi una collaborazione con l'editore Luca Sossella e ha iniziato a pubblicare una serie di testi di drammaturgia contemporanea sia italiana sia straniera siamo a più di 20 titoli nel giro di qualche anno questo è il primo era un testo di Cesare Lievi regista attivo sia in Italia che all'estero mi ho portato questo di Andrew Bovell When the Rain Stops Falling che era un bel testo in scena al teatro Franco Parenti un paio di settimane fa e poi ha un'altra collana dedicata alle drammaturgie di varie nazioni Grecia piuttosto che eccetera eccetera quindi diciamo così che in questo momento c'è un'offerta abbastanza ampia l'ultima o quasi cosa che vi faccio vedere è questa perché questo è interessante perché tendenzialmente ci sono dei progetti che spingono a produrre drammaturgia non si limitano a dire ah c'è il signor o la signora tal dei tali che ha scritto il testo X io lo pubblichiamo ma lavorano a commissionare dei testi o commissionare le traduzioni questo è sono dei testi del progetto Fabula Mundi che è un progetto sostenuto dalla comunità europea Creative Europe e che lavora sulla disseminazione di testi teatrali in diversi paesi 8-10 paesi in tutta Italia quindi quello che fanno loro tendenzialmente è ogni paese ogni partner in ogni paese sceglie una serie di drammaturghi interessanti al suo paese li propone ai teatri degli altri paesi che possono accogliere la proposta e quindi lavorare alla traduzione a delle mise on espace dei testi sperando che poi dopo entrino nel repertorio del teatro di quel paese questa era una delle prime edizioni questa credo sia un'autrice belga e lui è un autore spagnolo catalano questo è un testo che racconta la caduta della famiglia Ceusesco che hanno messo in scena Frosini Timpano e questa è la traduzione italiana del testo sostanzialmente questo è un altro progetto quello che ha fatto il piccolo teatro nei mesi scorsi ha commissionato a quante sono le lettere dell'alfabeto ad altrettanti drammaturghi dei testi e questo è il risultato che è venuto fuori sono state fatte delle letture delle mise on espace e anche questo è materiale che è a disposizione a questo punto di chi lavora nel teatro quindi questa è un'idea di allargamento del repertorio diciamo programmatica cioè testi o traduzioni in qualche modo selezionati e commissionati da un committente che poi arrivano alla pubblicazione e che poi forse qualcun altro può portare in scena va bene io direi che ho finito mi sembra vi ringrazio diciamo che un po' delle cose che vi ho detto sono il frutto di progetti che ho realizzato in collaborazione con la fondazione Mondadori che ha preso in carico sia il fondo Roseballo sia il fondo Ubulibri Francoquadri questi scaffali che vedete qui dietro li abbiamo riempiti la prima volta con i materiali di Roseballo la seconda volta con i materiali della Ubulibri quando è stato fatto il catalogo storico della casa editrice qui se volete ci sono un po' dei libri di cui ho parlato ovviamente questi sono solo degli esempi se avete domande e curiosità posso provare a rispondere quello che ho cercato di raccontarvi è che la scelta degli editori la scelta degli editori che hanno un programma e una visione teatrale poi alla fine può incidere anche su quello che è l'attività del teatro fine grazie grazie